Il filosofo per essere filosofo deve criticare la stessa filosofia, il proprio stesso atteggiamento filosofico, almeno questa è la mia visione. Nel paragrafo 7, sempre di al di là del bene e del male, dei pregiudizi dei filosofi, dice, si chiede, quanto sanno essere maligni i filosofi? Non conosco nulla di più velenoso dello scherzo che si permise Picuro ai danni di Platone e dei platonici. Li chiamò Dionisio Colakes. Questa parola, secondo il suo contesto letterale ed il suo senso preminente, significa adulatori di Dionisio, dunque satelliti di tiranni e loro bassi piaggiatori, ma soprattutto vuol dire sono tutti commedianti, non vi è niente di autentico. Il filosofo è un commediante. Entra in scena quando fa filosofia. Costituisce la sua scena. Prepara lo scenario del suo pensiero. E diventa gli stessi attori di un racconto, di un romanzo, dove tutto è una maschera. dietro i concetti c'è il filosofo. Ed i concetti non sono altro che maschere usate da un personaggio. Il filosofo non è uno scienziato e deve sempre tenere conto di questo, che egli stesso è un commediante. Continua Anice. Ed in quest'ultimo significato, commediante, sta proprio la frecciata, ed ecco la malignità, che Epicuro aveva scoccato contro Platone. c'era qualcosa che indispettiva Epicuro. Lo indispettiva lo stile grandioso, la messi in scena, nella quale Platone, con i suoi discepoli, mostrava tanta abilità. Ed Epicuro, invece, nessuno. Lui, il vecchio maestro di scuola di Samo, il vecchio Epicuro, che se ne rimase nascosto nel suo giardinetto di Atene, e scrisse 300 libri. Chissà, era forse spinto contro Platone dal furore e dall'ambizione. Furono necessari i cento anni perché la Grecia arrivasse a scoprire chi era questo Dio degli orti, Epicuro. Ma arrivò mai a scoprirlo? Certo, qui c'è sicuramente una identificazione di Nietzsche stesso ad Epicuro. Un momento di verità. Nietzsche non si sente ascoltato. Si identifica ad Epicuro. E Platone rappresenta tutta la filosofia ufficiale dell'epoca in cui Nietzsche vive e che Nietzsche sta criticando. Però Nietzsche è cosciente di essere egli stesso una maschera, di essere egli stesso un commediante. E ne trae le conseguenze. Dice, questa è, la filosofia è, questa ricerca della verità è, volontà di potenza, volontà di dominio. Ed il filosofo si maschera dietro il pensiero logico per portare avanti la propria volontà di potenza, la propria volontà di dominio. Certo. è necessario che ogni grande romanzo della potenza e del dominio cominci con un morto. Così la messa in scena raggiunge i più alti livelli di drammaticità. in legge il caso Severino al primo paragrafo del primo capitolo dal titolo Gli immutabili il niente il caso dice Nella storia dell'Occidente la conoscenza che si è assunta il compito di mostrare la verità è stata la filosofia cioè la scienza intesa non in senso moderno ma come episteme ossia secondo quanto la stessa parola greca riesce e suggerisce come conoscenza il cui contenuto riesce a stare imponendosi fermo su tutto ciò che vorrebbe smuoverlo e metterlo in questione e che appunto per questo suo stare è verità quindi anche per Severino la filosofia è la ricerca di una episteme di ciò che sta inamovibile ma subito dopo arriva il dramma e continua Severino ma ormai la filosofia è morta potremmo dire l'ha uccisa Nietzsche il sogno della verità definitiva ed incontrovertibile è finito non solo per le forze che promuovono la costruzione della civiltà della tecnica continua Severino ma anche per tutte le forme di umanesimo e sebbene alimentate dalla morte della filosofia tuttavia si illudono di poter rivendicare i diritti dell'uomo contro la violenza perpetrata dal sapere scientifico e dalla tecnica quindi all'inizio vi è questa volontà di verità che è volontà di potenza che è volontà di dominio ma la filosofia questa ricerca della verità è ormai morta il sogno della verità definitiva ed incontrovertibile dice Severino è finito però noi sappiamo che dopo un po' dopo che passa diciamo questo morto sulla scena della filosofia severiniana c'è la resurrezione della filosofia che non è più un episteme ma è il destino ad opera di una voce che è quella di Severino vi è la resurrezione del pensiero filosofico di una nuova filosofia di una nuova testimonianza dell'unica testimonianza della verità torno a Nietzsche sono tutti commedianti non vi è niente di autentico e al paragrafo 8 sempre Nietzsche c'è un punto in ogni filosofia in cui la convinzione del filosofo entra in scena ovvero per dirla con le parole di un antico mistero adventavit tasinus pulcher et fortissimus grazie